Monachello, questo è il momento davvero decisivo del campionato, 180 minuti all'epilogo, il destino nelle vostre mani alla luce dei risultati di ieri? Sì, sicuramente il destino nelle nostre mani, come nell'ultimo periodo si è visto che basta pensare sempre a noi stessi e poi guardare gli altri, andiamo lì per fare la nostra partita e cercare di prenderci il nostro destino. Quindi non sarà una partita come tante altre, quella di Venezia, ma la partita, possiamo definirla così? Sì, secondo me sì, da ambe due lati sarà la partita, perché per loro sarà l'ultima spiaggia e quindi andando in gamba a guerrire, per noi che vogliamo cercare di arrivare posizionati in miglior modo possibile nella classifica sarà una guerra, quindi sarà, come ho detto prima, da ambe due lati una guerra a tutti gli effetti. Monachello come sta? Perché insomma giudicare degli ultimi minuti, giocati con la Verona, hai fatto quella magia, sei stato molto sfortunato, stai bene anche dal punto di vista psicologico? Sì, sicuramente sì, diciamo che quest'anno con la sfortuna, quella palla dalla mia prospettiva pensavo fosse dentro, però era passata così, volevo calciarla in quel modo perché era l'unico modo per farlo e pensavo fosse entrata, invece no, vediamo se magari cambierà il vento perché a volte ci sono andate così, magari andate dove la tocchi e dentro, come magari l'anno scorso ad Ascoli, andate così che magari fai più fatica, però lavoro sempre per farmi trovare pronto perché da anni che faccio questo mestiere e quindi so che succedono questi momenti. Piloni in conferenza stampa ha detto voglio rivedere una squadra determinata che abbia fame perché ce l'ha nelle sue corde, lo ha dimostrato in tante partite di questo campionato. Sì, sicuramente se mettiamo in campo più fame come negli ultimi minuti con il Verona potremmo riportare a casa il stato positivo perché è quella che ci ha con il distinto, c'è la fame di arrivare primi sulla palla, come si è visto all'andata nel primo periodo di gennaio, quindi se dovessimo mettere in campo quella magari sarà dura per gli altri poterci far gollo o vincere. A proposito, dimenticavo, ritrovi Serse Cosmi. Infatti ci pensavo da un po', io spero che non da questa partita ma spero per lui veramente si possa avverare il sogno della salvezza perché come è stato l'anno scorso per me è stato fondamentale, mi ha fatto crescere tanto, mi ha fatto giocare tantissime partite, quando sono andato lì mi ha dato fiducia e quindi per me è una persona importante oltre che un grande allenatore. Infatti sono contento di riabbracciarlo e spero che si possa salvare perché se lo merita. Grazie.